Ancora un'esecuzione di puro stile mafiosi in Australia nella guerra fra bande per il controllo del mercato della droga che vede fra i protagonisti una consolidata ramificazione dell'andrangheta calabrese. Pasquale Barbaro, di 35 anni, è stato ucciso la scorsa notte a Sidney con numerosi colpi mentre usciva dalla casa di un suo associato da due uomini incappucciati subito fuggiti. Il giorno dopo, in un processo per omicidio, in un tribunale di Sidney, sarebbe stata ascoltata un'intercettazione di Barbaro che parlava con il boss della temibile banda libanese Brothers for Life. Pasquale Barbaro era in libertà su cauzioni in attesa del processo in dicembre davanti alla corte distrettuale di Sidney per produzione e traffico della droga dove rischiava una condanna a 20 anni. Pasquale Barbaro, che un anno fa era sopravvissuto a un simile agguato, porta lo stesso nome del nonno, ucciso in una simile esecuzione nel 1990.